Ma parliamoci francamente, il Partito Democratico non è l'Italia dei valori, il Partito Democratico non è vendola, il Partito Democratico ha persone all'interno che sono assolutamente affidabili e sotto il profilo anche delle ricette economiche e sociali non la pensano molto diversamente da Giuliano Ferraro o da me. Il Partito Democratico se è obbligato a presentarsi alle elezioni con questi altri è ovvio che deve sposare un programma elettorale che è antitetico a tutto quello che pensiamo noi, è esattamente la condizione che ha portato un partito che secondo il mio intendimento, ma in questo c'era il intendimento di chi contava molto di più che era Helmut Kohl, quando Helmut Kohl facilitò l'entrata di Forza Italia nel Partito Popolare Europeo cosa pensava? All'evoluzione di quel partito in senso centrista, l'alleanza con la Lega inevitabilmente se qualcuno la vuole fare ti squilibra dalla parte opposta e il giorno dopo sei vittima di che cosa? Delle ronde, vogliamo parlare delle ronde, per mese si è parlato delle ronde e si è spiegato alla gente che questa era la soluzione dell'ordine pubblico, quante ronde si sono fatte? In Italia nessuna. E per mesi si è spiegato che con un governo erano diverso si bloccavano le entrate nell'Ompedusa, sì abbiamo usato Gheddafi un po' come gendarme poi se ne è andato via, ma i problemi oggi sono talmente pesanti, ad esempio il tema degli extracomunitari, ma sono cose talmente ormai sistemiche per tutte le società europee che non è che con uno slogan tu risolvi questi problemi. Allora io mi pongo un problema Giuliano, vorrei farti una domanda, ma tu pensi davvero...